Allora, quasi dieci anni fa, a fine 2011, lei diventa Ministro del Lavoro. Allora, io le chiedo innanzitutto di spiegarci, visto che l'argomento al centro della serata è il tema delle pensioni, di spiegarci in che stato ha trovato il sistema pensionistico quando è diventata Ministro e di conseguenza perché è stato necessario intervenire con una riforma. Allora, intanto buonasera a tutti, buonasera a quelli che vedo e buonasera a quelli che non vedo. Ringrazio il Sindaco per il suo benvenuto virtuale, ma è sempre molto bello avere qualcuno che ti dà il benvenuto e che rappresenta la città, anche se magari la città ha come normale opinioni diverse anche sul tema del quale parliamo questa sera. Quindi grazie per l'invito, io accetto sempre volentieri di parlare con quelli che mi invitano perché ritengo che il dialogo sia importante e da Ministro io non ho avuto questa possibilità o non almeno nel modo in cui avrei voluto perché noi eravamo un governo tecnico e si pensa che quello che dovrebbe essere il canale di trasmissione tra il governo e i cittadini, cioè i partiti politici, hanno sostenuto e votato le riforme, ma come si dice è stato il classico sasso lanciato nello stagno per poi nascondere la mano. E quindi io ritengo che il dialogo sia importante per la comprensione e anche per la comprensione reciproca, quindi è dialogo, non è lezione. E in particolare sono sempre contenta di accettare gli inviti che vengono da giovani, perché la speranza del nostro paese sono i giovani e noi abbiamo mortificato i giovani per troppo tempo e questo è qualcosa che ha contribuito in maniera importante al nostro declino, perché è inutile che ci giriamo intorno, noi siamo un paese che da un paio di decenni, anche più di 25 anni circa, sta declinando sotto il profilo economico e forse anche un po' sotto il profilo civile. Ma di questo casomai parleremo un'altra volta. Lei mi ha chiesto in un certo senso che cosa ha trovato quando lei è arrivata al ministero. Allora io devo dire, primo che la, diciamo così, chiamata per me è stata del tutto inaspettata. Io ero professore, svolgevo il mio lavoro, quando Mario Monti è stato nominato senatore a vita ho pensato, tanto come milioni e milioni di italiani è una buona scelta, vuol dire che dava il Presidente della Repubblica era come accendere una lampadina. Guardate che stiamo cercando di superare l'impasse del governo politica e quindi questa è la persona su cui io mi sto orientando. Aggiungo che i partiti avrebbero benissimo potuto dire Presidente no, si va in elezioni, punto, basta, perché lo stallo c'era, le decisioni non venivano prese e il paese era sull'orlo del baratro. Quindi in un qualche modo bisognava uscire da questa situazione, o con elezioni o con un governo tecnico. I partiti politici scelsero il governo tecnico, perché il governo tecnico può anche chiederlo il Presidente, ma se i partiti dicono no, noi vogliamo il voto, si va al voto. Quindi io avevo capito come tutti che quella sarebbe stata l'indicazione di una richiesta da parte del Presidente al senatore Monti di provare a formare un governo. E così successe e avevo anche pensato, beh, magari siccome io conoscevo il senatore Monti, lo conoscevo perché all'inizio della mia carriera universitaria lui era anche professore a Torino, quindi siamo stati per qualche anno colleghi. lui era più avanti di me, come età e come era professore, io invece non ero ancora, ero appena entrata come, diciamo, assistente. C'era però anche un altro aspetto, e cioè io negli anni in cui lui era commissario europeo, l'avevo invitato, per l'appunto il dialogo, vi dico con la cittadinanza. L'avevo invitato a Torino a parlare di Europa, perché io che sono europeista convinta, credo che sia importante ridurre la distanza tra le istituzioni europee e i cittadini, perché questa distanza, come lei ha detto nell'introduzione, finisce per favorire un senso di distacco, qualche volta anche facili accuse che vengono alimentate, magari appositamente anche che i nostri guai dipendono dall'Europa e così via. Quindi lo conoscevo, ma quando è arrivata la telefonata la sera prima del giorno, la sera del 15 novembre 2011, e io ero alle nove e mezza di sera e io ero di ritorno da Bruxelles per un progetto di ricerca finanziato dall'Unione Europea, avevamo discusso con i diversi colleghi dei vari paesi europei interessati al progetto, quindi ero appena entrata in casa, la telefonata arriva e mi si chiede di fare il ministro. Per me questo è arrivato, ripeto, totalmente inaspettato. Il presidente Monti mi disse anche, confido che mi dirai di sì, ma vorrei la tua risposta entro le undici. E già sembrava fare una concessione, quindi ho discusso con mio marito, ho discusso con mia figlia. Mio marito a un certo punto prima delle undici mi disse la frase vorrei dirti di no, ma so che non posso, perché io non so se augurare a qualcuno di essere richiesto di fare il ministro in un momento drammatico per il paese, non so se lo auguro, ma so che è estremamente difficile in una situazione nella quale comunque chiunque chiunque è in grado di vedere che il paese è in grave difficoltà, se ti chiedono di lavorare per il paese. Tra l'altro io sono sempre stata dipendente pubblica, perché essere dentro l'università vuol dire essere un dipendente pubblico. Quindi per me si trattava di passare da un servizio pubblico a un altro. E immaginavo che sarebbe stato molto difficile, sapevamo con mio marito che sarebbe stato uno sconvolgimento della nostra vita familiare, nessuno dei due aveva l'intuizione di quello che sarebbe stato, l'intuizione approfondita di quello che sarebbe stato, ma forse dove io ho fatto l'errore di percezione maggiore è stato quello di pensare che in quel momento il paese fosse veramente pronto a cambiare direzione. Cambiare direzione voleva dire cercare di instaurare una strada nuova per riprendere la crescita, per ridare qualche opportunità e speranza ai giovani, per governare l'economia, la società in una maniera più coesa anche di quanto non fossero gli anni precedenti che erano stati invece sotto il profilo politico ma anche sociale di forti forti divisioni. Com'era il problema del paese? Il problema del paese era di essere molto vicino alla banca rotta, io su questo voglio essere chiara perché si pensa sempre che sia stato un complotto di qualcuno all'estero. Diciamoci la verità, è vero che in quel momento il nostro Presidente del Consiglio non aveva una grande reputazione all'estero. Io non sto a dire giusto o sbagliato che fosse, dico che noi eravamo rappresentati da una politica debole nei confronti dell'Europa. Quindi la reputazione del paese era quella che era, come dire sono i soliti italiani, non riescono a cavarsi fuori dagli impicci. Il problema era che noi tutti i giorni abbiamo bisogno di soldi per le normali spese pubbliche. E la crisi dipendeva dal fatto, tutti ricorderanno, tutti ricorderanno, la questione dello spread che è cresciuto fino ad arrivare a livelli molto elevati, 575 punti base, che vuol dire 5,75 punti percentuali in più rispetto a quello che pagava la Germania. Che vuol dire quindi che se la Germania pagava 2% per i prestiti, noi pagavamo 7,75. Capite cosa vuol dire? Che tu devi tirare fuori soldi per pagare gli interessi, non per sostenere le spese. Questo era un segnale che coloro che prestano i soldi nel mondo non avevano più fiducia nel nostro paese. E chiunque abbia, come dire, abbia avuto l'occasione di chiedere un prestito alla banca sa che la credibilità è fondamentale. Se tu sei sempre stato a posto con i conti, se tu ti comporti in maniera non stravagante, quindi per esempio finanzi le tue vacanze con ulteriore debito, allora il prestito viene fatto. Se invece per l'appunto sei indebitato e continui a indebitarti per delle spese che potrebbero essere rinviate, e uno dice ma su questo io qualche timore ce l'ho e penso che sarebbe meglio evitare. Quindi lì i mercati finanziari che sono sempre diciamo così indicati come se fossero lo strumento del demonio, ma è quello che io ricordo anche sempre, ricordiamoci che a comprare i nostri titoli sono anche i fondi pensioni, americani e non americani. E i fondi pensioni sono lì per gestire i risparmi dei lavoratori in modo da conservare il capitale, far crescere il capitale e poter pagare la pensione. Se tu compri un titolo che è rischioso, dove poi rischi di perdere almeno una parte dei tuoi soldi che hai messo, beh questo vuol dire che le pensioni dei lavoratori sono a rischio. Quindi non dobbiamo pensare che ci siano solo i malefici, come dire, speculatori. Il mercato finanziario è fatto anche dei risparmi delle persone normali. Quindi noi eravamo in questa situazione molto vicini a un default. Default vuol dire una sorta di bancarotta o di ripudio del debito. Si dice lo Stato a un certo punto non ce la fa perché non ce la fa, non ottiene più credito e allora cosa fa? Fa quest'operazione che in molti casi nella storia è stata fatta, ma che è sempre un evento traumatico. Perché tu devi dire, signori, voi mi avete dato fiducia, avete comprato i miei titoli, ma adesso io vi dico che anziché restituirli l'anno prossimo, ve li restituisco per esempio tra cinque anni e voi dovete aspettare cinque anni. Vuol dire che se avete bisogno di soldi e dovete venderli, quel titolo vale molto meno. Oppure dire, vabbè, voi avete titoli che avete comprato, però io vi dico che ve ne rimborso, vi rimborso il 70%, perché non riesco a rimborsare tutto. Quindi vuol dire che una fetta è perdita. Queste cose sono successe, in genere queste cose, ho detto prima, sono traumatiche e quindi richiedono qualche volta anche cambi delle istituzioni politiche, non solo di governi, magari golpe militari, li abbiamo visti in America Latina. Ecco, questa è la situazione, non alludo al golpe militare in Italia, per carità, non dite che ho detto queste cose, voglio dire che le situazioni di crisi finanziaria possono essere pericolose e quindi la strada è cercare di risolverle nella maniera più normale possibile senza questi traumi di cui ho parlato. Bisognava scegliere delle politiche, ma siccome quando tu sei fortemente indebitato, non riesci a fare delle politiche che piacciono molto agli elettori. Purtroppo, se sei molto indebitato, allora bisogna fare qualche sacrificio e chiedere sacrificio agli elettori ai politici non piacciono. Perché intanto pensano che alle prossime elezioni perderanno, cosa che avviene normalmente. Chi fa delle, come dire, politiche di restrizione che implicano un po' di sacrifici, di solito perde le elezioni. Questo lo si vede nei dati, non è un'invenzione mia. Quindi la politica era restia e quindi cosa si fa? Si prende un governo tecnico e gli si dice fate voi il lavoro, qualcuno lo chiama il lavoro sporco, ma io non ho mai voluto usare questa espressione perché il lavoro che si fa in certi casi quando devi chiedere sacrifici non è sporco e l'altro quando devi solo distribuire benefici è pulito. Non è così. La vita è fatta qualche volta di periodi in cui si sta meglio e qualche volta in cui bisogna tirare un po' i remi in barca. La responsabilità vuol dire fare l'una e l'altra cosa, non se essere solo lì a fare, a svolgere i compiti facili. E quindi aggiungo solo questo e poi perché lei mi ha chiesto com'era la situazione, aggiungo che nel 5 agosto 2011 arrivò il governo in questo impasse politico con lo spread che aumentava giorno dopo giorno e con tutti gli italiani che al mattino al caffè e la sera a cena o nel dopo cena parlavano di spread e basta, molto più che di calcio. Bene, in questa situazione il 5 agosto arriva al governo italiano una lettera firmata dal governatore della Banca Centrale Europea che si chiamava Trichet francese e dal vice presidente, non governatore ma è lo stesso, dal vice presidente che si chiama Mario Draghi e in questa lettera che è pubblica si trova i due governatori dicevano caro presidente indirizzata al presidente del consiglio nostro cioè a Silvio Berlusconi, caro presidente noi siamo disposti a dare una mano. In che modo la Banca Centrale può dare una mano? Comprare lei i titoli come sta facendo adesso Christine Lagarde. Quindi il governo ha bisogno di ottenere dei soldi, emette dei titoli e la Banca Centrale li compra. Quindi vuol dire che tiene su il prezzo dei titoli e perciò il tasso di interesse è più basso perché se non c'è nessuno che compra i titoli vanno giù, il prezzo va giù vuol dire che tu devi pagare un interesse altissimo su questi titoli che poi devi pagare. Quindi c'era questa lettera e diceva noi siamo disposti però voi dovete fare le riforme, voi dovete fare le riforme e tra le riforme indicate ai primi posti c'erano le due che poi furono affidate al ministro del lavoro cioè a Elsa Fornero che erano la riforma delle pensioni e la riforma del mercato del lavoro e nella riforma delle pensioni si chiedeva di aumentare ancora l'età di pensionamento, di ridurre, stringere i requisiti per la pensione di anzianità, eguagliare l'età di pensionamento degli uomini e delle donne e fare tutto questo in modo che già ci fossero dei risparmi nel corso del 2012, eravamo nel 2011-16 novembre quando noi abbiamo cominciato. Questa è la cosa, voi direte ma allora ce l'ha ordinato l'Europa? E no, il fatto era che noi eravamo in quella situazione in cui potevamo solo dire adesso perché se non ci sono i soldi, domandiamoci questo per tutti quelli che anche ascoltano, se il governo o un'amministrazione comunale non ha soldi non è che li mette il sindaco, no? Voi non potete fare debito e lo Stato invece può fare debito, ma se la gente non ti sottoscrive più il debito non puoi fare nient'altro che stringere sulla spesa, quindi quando si verifica questa crisi non è che poi le pensioni si pagano nel modo normale, gli stipendi si pagano nel modo normale, pensate all'Italia che è periodicamente in crisi, se non arrivano i soldi pubblici, in questo caso lo Stato glieli dà, gli stipendi possono essere pagati, ma lo Stato centrale o tassa le persone, quindi aumenta la tassazione o si indebita oppure riduce la spesa perché non ce la fa. Quindi se non vuoi tassare e non hai più prestiti, voi pensate che in media lo Stato italiano si deve… adesso non parliamo di pandemia che ha cambiato tutto il quadro ovviamente, ma prima della pandemia lo Stato italiano aveva bisogno di qualcosa come 400 miliardi l'anno di sottoscrizioni, 400 miliardi l'anno fa più di un miliardo al giorno, non è una piccola cifra, qualcuno la deve sottoscrivere e quindi se non te la sottoscrive non hai modo di far funzionare lo Stato nel usuale, cioè pagando i professori che insegnano, i medici negli ospedali e gli infermieri, i poliziotti che garantiscono la sicurezza, i giudici e i cancellieri che lavorano nei tribunali e tutti i servizi pubblici, comprese le pensioni, perché le pensioni sono spesa pubblica e siccome una buona parte di pensioni è pagata in debito, perché non bastano le entrate e se non c'è qualcuno che ti fa credito, ecco questa era la situazione, allora poi mi taccio, si dice anche ma quindi voi avete preso ordine della Germania, prima osservazione, voi pensate che adesso con il recovery plan le spese siano libere? No, questi soldi che ci danno in prestito, controlleranno che siano spesi in maniera molto efficiente, controlleranno molto, marcheranno stretto l'Italia, quindi vuol dire che quando tu hai bisogno di soldi qualcuno ti dice senti cerca di seguire questa strada ma non lo fa perché ti vuole male, lo fa perché vuole che si aggiustino ai problemi, questo è il problema, questa è la situazione che noi abbiamo trovato e quanto la riforma io l'ho dovuta fare perché il 15 arriva la telefonata, il 16 io parto per Roma senza che nessun altro mi avesse detto, solo Mario Monti che l'aveva annunciato poi al Presidente della Repubblica, parto per Roma e quando arrivo c'è una cerimonia di giuramento molto sobria piena di giornalisti e di media da tutto il mondo perché era governo tecnico chiamato a tirare l'Italia fuori dal baratro e al tempo stesso cerimonia molto sobria subito dopo Consiglio dei Ministri e il Presidente mi dice allora tu devi preparare la riforma delle pensioni e io chiedo quanto tempo e la sua risposta è stata 15 giorni, no due settimane massimo 20 giorni, questa è stata la sua risposta e poi tu corri al Ministero che non conosci e ti metti a lavorare e lavori perché io non andavo dai partiti, non ce l'avevo, io ero lì al Ministero e lavoravo con i miei funzionari, non tutti come dire, come posso dire, non tutti leali nei miei riguardi perché qualcuno era più legato ad altre visioni del mondo e considerava noi degli usurpatori, quindi però tu devi fare affidamento su quelli che hai perché non è che puoi rivoluzionare un Ministero e al tempo stesso preparare una riforma delle pensioni. La riforma delle pensioni è andata al Consiglio dei Ministri il 4 dicembre dal 16 di novembre che io ho cominciato sera ed è stata approvata dal Parlamento prima di Natale, non ricordo se il 21 o 22. Quindi questa è la storia, e non è una ricostruzione fantasiosa. Questa è la verità come io l'ho percepita con le mie informazioni. Nessuno in quel momento quando si stava nei Ministeri, in particolare facevamo molte riunioni al Tesoro, la sensazione che l'indomani poteva essere tragico perché appunto non avevamo sottoscrizioni, c'era la mancanza di capacità di finanziare la spesa, si tagliava quasi. Quindi altro che ubbidire al resto del mondo. I problemi erano nostri e i problemi rimangono nostri, ma dopo la pandemia l'Europa ha cambiato atteggiamento. Grazie a tutti.